Grazie agli ultimi aggiornamenti normativi è possibile attivare anche i servizi per la fascia 03 che fino adesso erano rimasti esclusi dal DPCM del Governo, quindi ci siamo attivati subito per far partire una fase di iscrizione anche per il nido estivo. Iscrizioni che inizieranno a partire da domani, 19 giugno, e si concluderanno il 23 di giugno. Tempi ristretti per poter garantire una partenza del nido estivo a partire da lunedì 29 giugno fino a venerdì 31 luglio, quindi contestualmente ai servizi di centro estivo per l'infanzia. Quindi un nuovo servizio che sarà collocato interamente all'interno della struttura del Grillo in centro storico e per le iscrizioni sarà possibile come sempre rivolgersi sia allo sportello online sul sito del Comune di Fano, quindi www.comune.fano.pu.it o rivolgersi direttamente all'ufficio servizi educativi del Comune di Fano, al numero verde 887 608 611.